Cominciamo? 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 Fatto Ok 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 Cominciamo? Ok Siamo emozionati Questa è la mia volta Siamo qua Abbiamo ancora qui Dopo due o tre serate per le attività che abbiamo conosco e un caso molto particolare per poter presentarmi però siamo un consorzio di aziende che non ha per mestiere per le pubblicarie però pensiamo in effetti pensare a particolare marketing del cibo ha una kill particolare e perché ha una kill particolare? Io vi racconto un po' un episodio che è ancora storie in questo momento c'è stato qualche mesi fa in Brasile e poi sono andato a visitare il mercato del caffè Il mercato del caffè è una specie di concistoro con tutte queste sedie che sono in un circolo dove qualcuno portava un sacco di caffè in un campione e poi c'era ciascun compratore intorno a quest'anfiteatro che prendeva un campione sopportato nella sua retropotenza faceva la tosta figura del caffè faceva l'assaggio e ne definiva il prezzo quindi questo mercato una commodity con il caffè una cosa molto simile per quanto riguarda il fomento e altri prodotti di grande interesse per essere petroliche ha la stessa autonomia di quella del cibo e quindi questa cosa è andata avanti praticamente per 200 anni circa questo sistema l'ultima volta non c'è tutto questo c'è diciamo da visitare per i turisti ma oramai c'è soltanto un tabellone che sforma più o meno di minuto per minuto quello che è il prezzo del prodotto in quel momento e quello che possono essere tutti i compratori che possono arrivare e definire in qualche modo la qualità del prodotto nel mercato internazionale in effetti come il mercato del cibo ha subito una evoluzione rapidissima nel corso di pochi percenti questo che era il centro del mondo se si poteva così immaginare dove venivano definiti i destini di molte persone quindi di chi lavorava direttamente e produceva quel suo prodotto quella stessa cosa per la canna al zoo perché a un certo momento questa è è alterata la stessa cosa il mercato con pervenzione di Amsterdam eccetera quindi il mondo si è ampiamente mobilitato il mercato principale quindi è diventato un mercato fondamentalmente intermediato da una serie di strumenti tecnologiche e quindi noi non potevamo sottrarci da questa un altro impegno che insieme con Gian Maria ma anche con un altro marketing che hanno poi collaborato alla stessura nel libro ci siamo posti questo problema come definire il marketing ora in effetti mettere per i grandi prodotti il caffè il riso esisteva questa forma di trasparenza che pure non era perfetto però per una serie di prodotti non esiste i mercati per quella serie di piccoli prodotti che ciascuno in qualche modo fa mercato e comprare proprio come poter formarsi un'opinione e quindi presso il prodotto su un contesto internazionale per dei prodotti molto più importanti che producono poche unità poche quantità di prodotti che hanno bisogno di rapportarsi col grande mercato probabilmente i piccoli prodotti della nostra territoria il piccolo santo streco non sarebbero mai usciti dal contesto del mercato locale soltanto con alcuni strumenti è possibile apportare un grande mercato una capacità di comunicazione quindi in effetti il mercato diventa più trasparente con questi strumenti però anche più volatili se si vuole perché la volatilità è connaturata al fatto che essendo una quantità straordinata tipo di prodotti la evidenza la sensibilità quindi la capacità di percezione di questo prodotto può arrivare in un certo momento e sparire quindi si tratta di mettere insieme questi elementi e di cominciare a scrivere qualcosa che probabilmente vorremmo aggiornare con una certa costanza perché l'evoluzione tecnologica che noi conosciamo tutti quindi che proviamo a stare sempre al passo e quindi questa è la nozione di cibo che c'è nel marketing dell'antico però c'è anche l'altro pezzo che sta dopo i due punti che ha la web social e il cibo è la definizione social non può essere senza social lui è un social che si consuma anche individualmente ma prima o poi che è relazione che è capacità che è comunicazione che è informazione cioè il cibo è fondamentalmente la capacità di informare perché per molto tempo il cibo è stato considerato praticamente chi aveva puntato di formulare degli scrittori della qualità del cibo si è sempre trovato nei confronti della intrasferibilità che alcune nozioni perché anzi spesso ciascuno ha elaborato il proprio vocabolario per la qualità se uno dovesse descrivere la calzareale del terramano è un pregato per la calzareale del terramano e dirgli le sensazioni che si possono trasferire e che uno può apprezzare ma la stessa cosa per tanti altri piccoli prodotti quindi si tratta di definire la multimedialità fondamentalmente cioè come poter trasferire questo cumulo di informazioni estremamente e complesso estremamente articolato per fare in modo che chi è anche molto distante dalla loro introduzione e dalla loro consono possa apprezzare queste caratteristiche certo che la tecnologia attuale è io penso che ci siano ancora da fare molti fasi avanti in questa direzione per trasferire la percezione delle problemi e la capacità di non solo di raccontare di descriverla ma poter anche percepire i sapori i profumi la storia l'articolazione il territorio di tutte queste nozioni che sono estremamente complesse che in qualche modo devono essere trasferite in un contesto molto lontano di di social che si formano e si disparano che si concorrono e che si escludono che condividono o si occorrono a certe cose tipiche questa fluttuazione estremamente importante nel campo del principio si apre una prospettiva che secondo me è molto interessante dicevo anche ieri sera il cibo che era diventato un qualcosa era un prodotto stanco invece che è il prodotto più moderno che attraverso cui può passare una serie di informazioni estremamente ricche estremamente partecipate e penso che possa essere estremamente poterà ricostruire anche un tessuto connettivo nella società molto dispersa che viviamo in questo periodo in questa fase quindi il libro che già Maria ha scritto insieme con Marta insieme con altri che hanno in qualche modo un corso tutti quanti a fare questo questo lavoro noi ci crediamo che possa dare un suo contributo una sua visione particolare di questo settore e penso che avrà anche un certo successo è un libro che certamente è nello stesso tempo perché ho visto un libro che ha in mente qualcosa che vuole trasferire l'altro che pensa che ha maturato in un certo livello che possa raggiungere effettivamente il suo obiettivo di comunicare qualcosa che cosa si comunica sotto che il cibo può passare nel sistema della comunicazione perché se non passa il sistema di comunicazione le cose passano la famosa cruna della lago tutti i cammelli ci passano ci sono cammelli che passano in quella cruna altri cammelli che non passano questo è il cibo e deve essere trasferito uno pensa che si possa scrivere un libro quando le nozioni si sono sufficientemente solidificate quindi ci sono arrivati c'è una maturità anche credo che in questo senso è molto interessante questa cosa qui del libro che viene scritto e un'ultima considerazione credo che è quello che c'è un valore da affermare il valore che viene affermata in questo libro penso è un valore della correttezza delle informazioni cioè penso che specialmente nella parte social non c'è una verità ma c'è una continua confutazione della verità cioè la necessità di potersi confrontare costantemente che dire e fare delle affermazioni specialmente su questi strumenti diventa un'informazione molto fluida molto liquida che si può acchiappare allora io penso che questo debba trovare una sua forma di controllo di autocontrollo cioè fare in modo che quelle informazioni che vengono date sono informazioni riscontrate oggettive che possono essere in qualche modo quelle che portano la progettura in computazione cioè tra l'altro c'è pure che si può questionere però c'è anche la computazione quindi la capacità di negare la falsificabilità quindi credo che questa è stata una sforza estremamente importante noi siamo estremamente contenti del lavoro che abbiamo prodotto e speriamo che vivere anche uno strumento di lavoro perché gli strumenti di lavoro chi lo è? io non l'ho letto tutto però se no non sono in grado però c'è un decimo che è estremamente cioè le parole che i significati cioè man mano nel web nel sistema di comunicazione delle parole che assumono dei significati di un molto particolare cioè sono veramente oggetti non più che far parte e anche un oggetto che dà informazioni molto particolari perché diciamo quando uno ha qualche dubbio sul significato se lo può andare a riguardare perché chiaramente non sempre hanno il significato dell'anguaggio comunale ma spesso hanno un significato più tecnico più di dominio particolare che non possiedono queste capacità io credo che il libro maturerà sempre più quando il linguaggio tecnico diventerà anche questo non c'è più bisogno di andarsi a controllare ma diventa automatico questa che poi è tutto tentativo come direi che era amichevole l'interfaccia rispetto a questo tipo di strumento sofisticato ma anche estremamente semplice credo faccio un pre-comprimente a Gian Maria che si prese sta fatica di scriverlo e quindi adesso soggiaggerà anche le nostre critiche perché si espone poi soggiaggerà anche poi il meglio di me potrà illustrare dal risultato della sua opera grazie chiamati in causa a ragionveduta grazie Donato grazie una serie di grazie per questo libro grazie perché questo libro secondo me ha trovato un comune di varie come dire esperienze di varie idee ma prima ovviamente ad agire quando se ne è parlato le prime volte si è subito voluto in qualche maniera condividere qualcosa di innovativo rendersi conto che poi in realtà le difficoltà delle aziende tante volte nel settore food dell'agroalimentare è proprio quelle di riuscire a comunicare prodotti eccellenti nel nostro territorio non siamo noi che ce lo dobbiamo dire, più o meno conosciamo le realtà italiane se non lo conosciamo ci sono tante altre che devono ancora farsi conoscere però è un grande limite poi a comunicare, a presentarsi sul mercato che poi in realtà, diciamoci la verità, qualsiasi prodotto buono ci sta sempre rincontrato il mercato per avere successo altrimenti i prodotti buoni purtroppo rischiano di morire o meglio le aziende di scomparire il prodotto a sua volta di morire quindi un grazie da giro, un grazie di donato a Marta con la quale abbiamo fatto i primi passi per sprintazioni i primi no, il primo progetto lo chiamavamo agroalimentare 2.0 però poi non faceva marketing e quindi lo abbiamo cambiato in food marketing, web e social quindi un ringraziamento anche a Marta ringraziamento a altre persone come Marco Ricci, food blogger, Giorgio Di Sabatino, food blogger Francesca Pedicone, specialist content con i quali ci siamo incontrati e abbiamo condiviso, studiato, realizzato, cambiato, modificato, riaggiornato per tutte le varie componenti del libro quindi mi sembra doveroso fare questo primo ringraziamento perché fare un libro, ho avuto la fortuna di farvi un altro non è facile, Giorgio mi guarda e sa cosa dice non è facile non è facile perché in qualche maniera bisogna analizzare, studiare, raccogliere cercare di portare un valore aggiunto è quello che abbiamo un pochino cercato di fare cioè portare un valore aggiunto perché innanzitutto nel suo settore non c'è una documentazione o letteratura in merito a quello che è il food marketing con declinazione web e social c'è tanto scritto ma in realtà non esiste un convegno che raccolta una strategia o un percorso abbastanza mirato e chiaro seconda cosa perché ci siamo un pochino resi conto e questo con gli ultimi dati, prima se ne parlava intorno a aprile e maggio gli ultimi dati di e-commerce sappiamo che l'e-commerce in Italia secondo alcune stime dovrebbe raggiungere 15 miliardi di fatturato l'anno già veniamo da una stima di 470 miliardi invece da parte dell'Unione Europea dell'intero territorio europeo però da un'altra analisi abbiamo che di questi 15 miliardi ci rendiamo conto che le aziende che in Italia hanno attività di business online e di e-commerce sono raggruppate in un insieme in una percentuale che è il 4-5% cioè una percentuale ridicola nel senso che probabilmente se molte più aziende fossero presenti nel mercato online quel 15 miliardi potrebbe crescere ma soprattutto potrebbero crescere i fatturati delle singole aziende quindi tutto l'indotto adesso avessi connesso c'è da fare anche un'altra considerazione un pochino più di export USA, quindi Stati Uniti e Cina che sono, per quando sappiamo, il loro modus vivendi è quello di utilizzare quotidianamente sempre le tecnologie sono due nazioni che tendenzialmente importano poco o nulla dall'Italia attraverso il canale di e-commerce quindi attenzione importano poco o nulla dall'Italia utilizzando l'e-commerce allora siccome sono USA e Cina due nazioni che adorano i prodotti italiani che vanno dal design, dal lavoro alimentare, al lusso tutto ciò che ci viene in mente pensare che non utilizzano ancora il canale di e-commerce ci viene da forse una domanda come mai? non penso perché loro non vogliono utilizzare questi canali ma forse perché le aziende italiane in questo settore hanno purtroppo delle difficoltà a presentarsi non solo in un mercato e-commerce italiano ma in un mercato online internazionale perché qualche volta parlando di e-commerce una buona strategia subinvernificata può essere letta appunto come la fase A di un progetto di internazionalizzazione dell'azienda con la quale attraverso l'e-commerce oppure prodotti di business online si possono annullare in qualche maniera da usare questi mercati quindi fatte queste considerazioni e purtroppo, aggiungo io viste tante volte i progetti di e-commerce che nascono nelle aziende e muoiono nelle aziende stesse a volte senza partire e anche questa è un'altra realtà forse, e questo è lo spirito del libro c'è la necessità non tanto di bensì di parlare di e-commerce ma bensì di creare una cultura del business online all'interno delle aziende che è una cosa ben diversa che una cultura del business online all'interno delle aziende si indesigni in qualche maniera non solo utilizzare lo strumento ma utilizzarlo nella maniera corretta altrimenti rischiamo di avere dei grandi grandi problemi guardate che tante volte parlando con degli inventori potrebbero dire ma se arrivano più ordini in un sito online che cosa succede? sono contentissimo sì ma se non lo riesce a debattere va bene, aspetteranno no questo sarebbe uno dei più grandi errori in un'attività di e-commerce non tanto perché non si vale l'ordine ma perché la reputazione online di quell'azienda probabilmente subirà un danno o anche quando noi diciamo che si spedisce in 24-48 ore il prodotto e poi non si spedisce in 48 ore ma noi ci spediamo 4 giorni 5 giorni purtroppo sembra a volte può sembrare una cosa non importante per un venditore in realtà per il cliente è una cosa importantissima perché nell'attesa di un prodotto e quindi creata un'aspettativa di 24-48 ore quando questa aspettativa viene in qualche maniera disattesa succede che il cliente l'utente va online e posta un commento negativo e questo commento negativo e questo ce l'insegna non il web ma ce l'insegna la vita quotidiana una notizia negativa va molto più veloce di una notizia positiva e quindi se ci mettiamo tanto a costruire una buona reputazione aziendale ci mettiamo pochissimo a rovinare e tante volte ce la roviniamo con lo strumento che in realtà che deve far crescere quindi questo è un pochino lo spirito di questo libro il libro che tocca i capitoli principali riguardano appunto quello che è un pochino nel mercato di internet nel mercato del commerce in generale ma nel settore anche dell'agroalimentare va a toccare con strumenti operativi perché ricordiamoci strategie di business ma strategie operative indicando quali sono gli strumenti indicando quali sono quindi le strategie le metodologie per costruirsi in prima battuta un piano di web marketing un semplice piano di web marketing ma che non tanto ci serve immediatamente a capire dove andare ma ci serve ad analizzare il mercato per poi poter decidere dove andare perché tante volte si decide dove si vuole andare ma non si conosce il mercato non si conoscono i competitor quindi una cosa invece tante volte importante soprattutto per le piccole e piccolissime aziende studiare i competitor e da lì cercare di costruire un piano di web marketing operativo quindi un manuale operativo che crea questo piano di web marketing che in questa fase sperando poi di poterlo aggiornare e ampliare io ho detto il progetto originale tra i 130 pagine poi siamo arrivati un progettino di 300 pagine ma perché di cose da dire ce ne sono tante ma che tocchi comunque la progettazione corretta e sistematica di un sito web o di un portale web che comunque nel settore full e comunque online ha dei criteri ben precisi per potersi presentare per far sì che sia un prodotto usabile un prodotto commerciale e in qualche maniera che serva al suo scopo abbiamo toccato anche il discorso del direct marketing o meglio dell'email marketing oggi fare dico una banalità una semplice newsletter nel sistema nell'e-commerce una newsletter ben strutturata con una buona periodicità può aumentare il fatturato aziendale online del 30% ci sono stime quindi immaginatevi pianificare una campagna di email quando può essere così semplice in realtà ma soprattutto quando può dare valore aggiunto e poi abbiamo toccato un'altra voce fondamentale che sono i social oggi non si può parlare di strategie di business online senza toccare i social perché poi sono i social che creano la reputazione e se siamo bravi con un pizzico di furbizia tanta fortuna a volte anche le piccole aziende possono creare dei prodotti o comunque delle informazioni di tipo virale cioè delle informazioni che si replicano grazie agli utenti online e queste informazioni in qualche maniera possono appunto essere di strumento per la promozione di un business per la promozione di un prodotto quindi questi grandi tre effetti siti web costruzione pianificazione direct marketing inteso di email marketing quindi tutto ciò che riguarda le comunicazioni tramite email social media marketing e tutto ciò che sono i social ovviamente analizzando non tutti i social analizzando i social che servono il settore food i social che servono ne sono tantissimi però sono importanti da facebook youtube pinterest instagram twitter già poter gestire questi cinque social se un'azienda avrebbe fatto il non plus ultra è difficile gestire bisogna pianificare e ultima ma non meno importante tutto il discorso dei motori di ricerca chiamano così dei search engine cioè sia le attività di ottimizzazione dell'indicizzazione sui motori di ricerca e questo vale dal sito al blog o quant'altro e sia search engine marketing tutte attività di promozione quindi campagna per click per quando riguarda la promozione appunto attraverso il motori di ricerca questi li abbiamo identificati nelle varie riunioni come oggi di elementi base per pianificare una buona strategia è ovvio che il libro indica anche come utilizzare abbiamo detto un manuale operativo che ovviamente non impone all'imprenditore di dover prendere che sono un imprenditore difficilmente potrebbe utilizzare ma sarebbe importante che lui riesca a capire ad almeno avere una valutazione di quelle che sono le metriche che si possono applicare il suo progetto la sua strategia online per ottenere successo perché anche qui apriamo e chiediamo una piccola premessa a volte c'è la difficoltà in qualche maniera di capire bene cos'è il web come chi fa impresa casomai poco dedica al web attenzione invece il web è un canale fondamentale ma bisogna anche parlare e in qualche maniera sintetizzare quello che il web ci dice sono sigle purtroppo l'informatica funziona a sigle però capire una sigla piuttosto che un'altra io tante volte dico ad un'azienda posso chiedere avete fatto URL che vai che è una tecnica di riscrittura basilare per la promozione e l'indicazione di un sito web loro ti guardano e ti dicono io ho comprato il server l'ho acceso funziona tutto cioè non c'entra nulla con quello che in realtà gli interessa oppure abbiamo fatto social media marketing e mi rispondono io il mio profilo facebook da lì il mio profilo facebook che significa e il mio account chiedo l'amicizia rispondo con l'amicizia un'azienda non può avere un profilo facebook un'azienda deve avere una pagina facebook così come su tutti i social che prima ho citato esistono tutte pagine tipo aziendale business che hanno modalità operative completamente diverse da quelle che sono i profili personali che sono altre cose e quindi che cosa abbiamo voluto fare abbiamo appunto voluto dare queste dritte in realtà ce ne sono centinaia centinaia di tecniche dell'indicizzazione di tecniche di comunicazione abbiamo cercato anche di aiutare facendo capire come si scrive un post su facebook sembra una banalità ma non lo è scrivere un buon post su facebook può veramente far veicolare un prodotto un'informazione in maniera eccellente e soprattutto se si tratta di un prodotto immaginatevi se questo prodotto a sua volta è vendibile online aggiornamento di qualche 48 ore fa 96 ore fa facebook non solo ultimamente ha aggiunto una call to action che cos'è tanto per capirci un pulsante nella copertina dove permette di dire all'azienda che cosa vuoi fare quando un utente si connette vuoi contattarlo vuoi vendergli un prodotto vuoi che ti mandi un email vuoi fare un sondaggio ma ancora di più facebook in questi giorni sta rilasciando una sorta di chiamiamola non piattaforma di un plugin aggiuntivo dove è possibile direttamente su facebook collegare il proprio e-commerce quindi a questo punto che abbiamo come diventa strategico scrivere bene un post e saperlo veicolare o sul sito di commerce o direttamente all'interno del social network ovviamente è una cosa importante quando parliamo di social network per le aziende è veramente a volte viene sottovalutato social network non significa che faccio le attività e rimango sul social significa faccio le attività sul social ma trasporto gli utenti nel mio sito perché la vera proprietà la vera strategia ogni azienda la fa sul suo sito gli altri sono tutti elementi satellitari importantissimi per accumulare e accumulare utenti però con le strategie vengono fatte nel sito non vi dico altro perché avrei centinaia di argomenti da poter analizzare c'è invece la seconda parte del libro che io adoro in maniera particolare che sono gli appendici a cui do molto spazio e soprattutto molta importanza perché gli appendici sono una sorta di laboratori sperimentali dove di tutta la teoria che si è detto si va a testare e su questi appendici per esempio abbiamo voluto analizzare l'e-commerce per l'e-commerce si sarebbe voluto un libro a parte quindi abbiamo dato tutti gli strumenti però ho dato comunque un'accelerazione sull'e-commerce su quelli che sono gli strumenti food che oggi i tanti portali come ebay o amazon già mettono a disposizione per le aziende italiane abbiamo analizzato dall'ambito dei food blogger sia i vantaggi che un'azienda può avere nell'avere rapporti quindi di promozione con un food blogger far capire anche questo rapporto tante volte parlando con Giorgio ma anche con Marco si scherzava se vedeva dicendo agli aziende mi danno un prodotto e io parlo di quel prodotto questo forse accadeva tre anni fa che per noi tre anni fa è tantissimo oggi bisogna in realtà avere rapporti più professionali con determinate figure con Marco si è parlato della food photography elemento essenziale per promuovere un prodotto guardate che è una foto fatta bene tra il giro del mondo ci sono foto che sono state visualizzate da 100-200 milioni di persone che hanno portato incrementi di fatturati notevolissimi alle aziende e poi un'altra parte importante c'è tutto il discorso anche dei casi di studio abbiamo preso 15-15 casi di studio nazionali realtà piccole o realtà più grandi e casi internazionali dove in qualche maniera si andava a misurare da qual era la strategia da cui si partiva come è stata implementata e quali sono i risultati che l'azienda ha ottenuto e questo è importante perché il web permette sì di far crescere e di portare vantaggi alla grande azienda ma anche alla piccolissima realtà aziendale locale alla piccola azienda agricola abbiamo citato un caso io lo dico sempre perché mi piace quasi storico ma importante il caso delle pecore che si allevano online allora ci sono due aziende principalmente in Italia tra l'altro una la abbiamo in Abruzzo un'altra la abbiamo in Sardegna che hanno aziende che dovevano chiudere perché in realtà non erano più il vecchio pastore non ha più la possibilità di poter fare un'attività commerciale economica come lo era un tempo hanno avuto l'intelligenza e la lungimiranza di immaginarsi di far affittare alle varie le proprie pecore online quindi con un budget di una cifra indicativa di 300 euro l'anno loro permettono agli utenti online di affittare la pecore di vedere le foto ma soprattutto ogni 6 mesi o ogni anno a seconda dei vari contratti di ricevere il formaggio creato da quella pecore il latte fatto da quella pecore tutti i latticini che la pecore produce quindi anche qui nella sua semplicità si trasforma il web e permette appunto all'azienda un rilancio queste aziende che dovevano veramente scomparire oggi sono aziende che sono sul territorio fatturano crescono ma soprattutto si sono ampliate dal semplice prodotto agroalimentare oggi fanno anche turismo culturale quindi invitano i loro clienti una settimana e dieci giorni e creano pacchetti mirati per quello che loro sentono e quindi con i casi aziendali fino a parlare dei casi che sono mai più eclatanti come Heineken che proprio più a Milano qualche anno fa nella finale che fece la Coppa dei Campioni il Milan fece un evento social importantissimo su Youtube che pensate l'evento social avrà avuto un investimento probabilmente forse neanche centinaia di migliaia di euro da una città tanto indicativa ma il ritorno in termini di immagine è stato mondiale veramente mondiale da Sky a BBC a EPC alla RAI a Mediaset ci sono inventati un qualcosa di molto interessante con una buona idea budget non troppo alto ma un ritorno di immagine fortissimo e quindi questi sono gli strumenti per poi comunque abbiamo inserito sempre perché abbiamo l'intenzione di volgerci a un pubblico non tecnico un glossario molto ricco importante di quelli che sono tutte le terminologie e appunto le soci principali quelle di tuttissime sigle di cui si parlava prima per capire di cosa si parla quindi qui in sintesi una sintesi molto molto stretta questo è quello che è il discorso e quindi è la progettualità di questo libro io non dico altro perché voglio lasciare spazio in realtà mi piacerebbe che ognuno faccia un intervento quindi mi permetto di chiamare rapidamente poi ognuno di voi però un ringraziamento un impegno è un progetto che spero veramente nel primo libro mi è capitata una cosa una signora una volta mi fermò e mi disse guarda ho preso questo libro molto interessante io ogni volta strappo una pagina io giustamente discusi signora se è così interessante mi devono visitare perché strappo una pagina perché siccome un libro un manuale pratico ogni volta che strappo una pagina significa che quell'operazione io l'ho fatta speriamo che questo libro allora in quest'ottica abbia strappato tanto perché non ci rimane niente ma soprattutto può essere un motivo per cui possa essere utilizzata quindi io vi ringrazio a questo punto chiamo Marta e mi piacerebbe che possa dire due parole grazie Gian Maria grazie a voi per essere presenti io sono stata coinvolta in questo progetto sin dall'inizio perché è nata da un'idea di Gian Maria che abbiamo condiviso e poi abbiamo scritto assieme proprio questo progetto che è stato approvato dalla società e poi è stato realizzato e ritengo che sia un progetto estremamente utile per le imprese perché confrontandomi quotidianamente con le aziende del settore agroalimentare ad oggi ne abbiamo di aziende collegate ad agire 134 quindi sono veramente tante realtà di tutte le dimensioni e le estrazioni dalle piccole e medie imprese alle aziende agricole prima alle multinazionali e quindi questo ha permesso mi ha permesso di capire quanto sia importante la comunicazione ma soprattutto quanto sia importante la comunicazione nel web quindi questo libro che permette alle imprese di crescere nel web e sui social è estremamente utile la mia attenzione si è concentrata sull'e-commerce e sull'essario in particolare ritengo che l'e-commerce sia uno strumento davvero fondamentale in questo momento perché pensate a quanto spesso capita di andare in una fiera di settore da persona curiosa di conoscere il mercato dove non è possibile acquistare perché nelle fiere non è possibile acquistare nelle fiere più grandi e allora il consumatore finale come può fare per avere un prodotto che magari è di un territorio lontano internet il canale che permette di acquistarlo oppure pensate all'esposizione qui in casa Abruzzo è un'esposizione permanente si può degustare il prodotto ma non lo si può acquistare e allora lo si può fare su internet lo si può fare nei canali diretti delle imprese quindi quando le imprese hanno sul loro sito internet un'area e-commerce o lo si può fare su dei siti specializzati nel settore e-commerce che sono multi-brand quindi aggruppano più prodotti e più aziende e da cui è possibile acquistare però ci sono anche una serie di strategie che queste aziende devono seguire come diceva prima Gianmaria le aziende che hanno sul proprio sito un canale e-commerce devono avere una comunicazione integrata e in linea con il sito internet con la parte cartacea e con la grafica ci deve essere un progetto uniparlo la stessa cosa avviene nelle aziende nei canali e-commerce multi-brand in cui ci sono più prodotti e quindi ci deve essere un'immagine coordinata però l'azienda deve essere pronta ad affrontare i nuovi mercati quindi deve conoscere i competitor di quel mercato ma deve conoscere soprattutto il paese in cui vuole andare a vendere perché non tutti i paesi sono uguali e per alcuni paesi ci sono delle normative particolari da servire ad esempio se si vuole vendere in america ad oggi i prodotti devono avere un'etichetta che entro in dicembre 2016 dovrà essere uniformata alla nuova normativa 1169 del 2012 e se si vuole vendere in america invece deve essere in regola con i valori nutrizionali e con tutto quanto collegato all'FDNL quindi alla Food and Drug Administration e che dire poi l'altro aspetto che ritengo fondamentale legato al e-commerce ma anche a questi strumenti social è che devono essere in grado di emozionare di trasmettere la passione che l'azienda ha nel proprio compatto nel proprio settore e per i propri prodotti e questo è poi secondo me il vero strumento vincente che permette alle aziende di poter rendere di più di fare fatturato e quindi di crescere mi auguro che questo libro seppur tecnico si è in grado di emozionarvi e di riuscire a trasmettere che sia capace di trasmettere poi degli strumenti realmente utili e spendibili nella realtà con questo io passo la parola agli altri autori del libro e vi ringrazio per la vostra presentazione allora Francesca 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 Pelicone ho curato tutto la parte di Renzi Casistudio esatto buonasera a tutti e ringrazio di essere qui innanzitutto a me quando l'hanno letto fa più voglia di collaborare a questo progetto in realtà mi ha fatto un grandissimo favore perché parlare di food e di social e di web nello stesso live nello stesso manuale sembrava assolutamente un'operazione assolutamente interessante e da fare quindi ho accettato immediatamente con tutto l'entusiasmo possibile la curiosità e la voglia di intraprendere questo percorso la parte a cui mi sono dedicata io è quella appunto dei casi studio dei casi pratici e realmente accaduti per far capire appunto alle aziende che siano di grandi piccole dimensioni nazionali o internazionali che in realtà percorrere la strada del web del social e del web marketing in modo specifico aiuta aiuta e contribuisce assolutamente a incrementare non solo quello che è il fatturato quindi l'aspetto economico il quale si fa molto riferimento ma anche ad incrementare quella che è la brand knowledge e quindi la conoscenza la riconoscibilità del marchio dell'azienda e del prodotto nello specifico io sono italiana agruzzese nello specifico quindi parlare di food per me è assolutamente come stare a casa sentirsi a casa e farlo in questo ambiente quindi qui in casa Abruzzo con il polo che si è cimentato in questo splendido allestimento in questo splendido progetto era assolutamente un'occasione da cogliere e invito a fare la stessa cosa alle aziende appunto piccole medie grandi perché farlo adesso nel momento in cui siamo sotto l'occhio di tutto il mondo che ci analizza quotidianamente non solo Milano ma in Italia tutta si è interessata a questa osservazione così gigante penso sia un momento più adatto quindi invito le aziende a prendere il nostro manuale a leggerselo perché si è tecnico però comunque sia credo sia molto pratico immediato e volendosi perché no strappare ogni giorno una pagina come diceva il giorno degli anni e valutare anche effettivamente praticamente quanto sia giusto quello che si dice qui che può sembrare un po' teorico però in realtà analizzandolo bene implementando tutte le fasi che abbiamo descritto è proprio da lui un piano di web marketing dettato fase per fase quindi impreventabile assolutamente dire la persona da chiunque abbia un po' un pizzico di voglia di volontà di intraprendere questo percorso insomma è assolutamente una cosa da fare una cosa importante da dire è che cimentarsi in questo ambito può sembrare una cosa non da tutti dicevamo anche prima parlando però in realtà la volontà quindi il crederci è farsi aiutare come cos'è di personale esperto è avere soprattutto chiari gli obiettivi che si vogliono raggiungere i tempi nei quali si vogliono raggiungere è il target al quale si vuole mirare credo ci sono dei passi fattibili assolutamente implementabili e ripeto soprattutto per l'Italia in questo momento storico che sta arrivando appunto a pieno in questi mesi io vi ringrazio ancora e ci vediamo sicuramente più tardi anche su Pupin che sarà interessantissimo per tutti a questo punto chiamo Giorgia food blogger autrice del libro semplicemente buona buonasera a tutti innanzitutto vi ringrazio per avermi invitata sono onorata di aver partecipato a questo progetto che mi è capitato un supercazzo perché ci siamo incontrati a sito al mercato e mi ha detto Maria hai comprato il mio libro e mi ha detto ma tu il mio ce l'hai e io ho detto no e quindi da lì è nata una una politica e quindi dopo qualche giorno mi ha chiamato e mi ha detto comunque l'altro libro non mi ha comprato un mese di tanto però mi ha sto scrivendo un altro se vuoi vorrei avere un altro appendice ecco finora si è parlato di linguaggio tecnico e vi assicuro che se volete leggere qualcosa di più semplice e fluibile la mia appendice credo sarà la parte più semplice del libro perché io non sono assolutamente una tecnica del settore sono un altro blogger improvvisata nel senso che avrei dovuto fare la mia vita con una mia labbra di risprudenza ma mi sono ritrovata nella mia città natale dopo aver studiato e lavorato per dieci anni qui a Milano perciò grazie anche per avermi invitato qui è la mia seconda casa e sono sempre felice di essere qui mi sono ritrovata a Teramo con la passione per il cibo non avendo un altro lavoro in quel momento da fare e ho detto vabbè mi butto sulla cucina e ho aperto questo blog inizialmente appunto come dicevamo le mie collaborazioni con le aziende erano diciamo uno scambio di sughi cioè va meglio io ricevevo sughi marmellate e pentole ma dopo un po' mi sono reso conto che non ci pagavo le bollette e quindi ho cercato di far diventare questo suo blog un mestiere attualmente continuo a collaborare con delle aziende anche attraverso un'agenzia perché diciamo che per riuscire come vi hanno detto spiegato per riuscire ad avere un po' di potibilità in quel settore devi avere qualcuno alle spalle che ti dica quale stanno a scendere come agire in determinati momenti quindi quando mi chiedono vuoi su e mi scrivi un post rinuncio e piuttosto chiedo magari un contributo economico perché io tra l'altro scrivo post solamente di quello che generalmente di quello che mi piace quindi non accetto più prodotti pur di parlarne ma cerco di selezionare le aziende che mi contattano è un settore difficile perché soprattutto le piccole aziende non hanno ancora ben chiaro che il rapporto con i social con i food blog può essere davvero insomma importante si può portare a qualcosa le piccole aziende quelle del nostro territorio soprattutto ho avuto modo di insomma di conoscere qualcuna e sono tutte interessate in curiosità ma ancora molto intimorite dalla cosa io come tutti i food blogger ho le mie pagine facebook le mie pagine instagram la pinterest curo tutti i miei social è davvero è un lavoro ogni giorno perché tutti mi dicono ma come fa essere dietro a tutte le foto tutte le ricette io cucino pubblico le mie foto non pubblico foto di altri o con foto d'archivio quindi è un lavoro molto appassionante cioè a me appassiona molto perché la mattina mi sveglio contenta perché so che devo scrivere le mie cose le aziende stanno diventando sempre più importanti in questo mio percorso anche se è sempre molto difficile ancora far capire quanto è importante questo rapporto vi ringrazio ancora per avermi dato la possibilità di dire la mia di raccontare la mia esperienza da non professionista del settore vi auguro una buona serata poi mangeremo una cosa insieme cucineremo una cosa quindi ci divertiamo grazie io ci chiamo Matt Ricci food fashion blogger e abbiamo già una declinazione diversa con il suo blog secondo me anche con Matt un'esperienza posso dire come ci siamo parlati? se con Giorgia ci siamo conosciuti in un supermercato cioè ci siamo rivisti scusa ci siamo rivisti in un supermercato e Marco siamo conosciuti a scuola a 11 anni però lo dico pubblicamente la prima volta che Marco ha cucinato il sottoscritto ha cucinato l'abbiamo fatto insieme a casa mia con delle polpette mi ricordo avevamo 11 anni quindi significa che in qualche maniera questo percorso del food doveva avere doveva sviluppare infatti il libro è una scusa per ritrovarsi ultimamente non dico nulla grazie grazie a tutti e soprattutto a Gian Maria per avermi coinvolto in questo progetto che ho sposato con grande gioia e felicità perché tratta di argomenti che naturalmente a me sono molto cari anch'io come diceva Giorgia prima non nasco come food blogger non penso che si nasca food blogger forse adesso sì però qualche anno fa siccome non sono poi così giovane prima anch'io ho fatto un'altra cosa poi a un certo punto sono arrivato diciamo mi sono fermato e ho detto voglio fare qualcosa che mi piace davvero non che quello che ho fatto non mi piacesse però ho detto voglio fare qualcosa che mi piace e ho individuato nella moda e nella cucina le mie due vere passioni io sono un po' tipico come diciamo un blogger perché non sono né un vero e proprio blogger né un vero e proprio fashion blogger ma quello che mi piace fare nel mio blog e penso sia il mio carattere distintivo è parlare di cucina cucino anche a volte ma più parlo di cucina e di moda individuare delle realtà soprattutto nella moda di designer di giovani soprattutto emergenti che ahimè non riescono a trovare spazio nel mondo sia della moda che della cucina e quindi cerco di diciamo nel mio piccolo di valorizzarlo fondamentale è l'utilizzo il saper utilizzare gli strumenti giusti e questo libro ne è la prova come diceva giustamente Gian Maria come abbiamo detto tutti non basta avere un buon prodotto non basta mettere una foto su facebook e su instagram per farsi pubblicità ma bisogna saperlo fare e nell'appendice che ho avuto il piacere di scrivere per questo libro parlo proprio di quanto sia importante oggi una fotografia questo l'ho sperimentato anche sulla mia pelle sulla mia persona inizialmente quando scrivo i post facevo delle foto abbastanza approssimative un po' per fretta un po' per inesperienza poi con il tempo ho capito soprattutto parlando con una carissima amica food blogger che mi ha detto Marco ma quando tu scrivi un post la tua ricetta può essere la più buona la più bella la più scritta bene la più completa possibile ma se tu con la foto non fai venire voglia alle persone di andare a leggere e di vuol desiderare quello che tu hai scritto hai fallito nel tuo obiettivo ed hai ragione perché una foto può effettivamente può e fa la differenza i primi sensi il primo senso che noi attiviamo è la vista quindi è quello che cattura la nostra attenzione vedere una bella foto cattura la nostra attenzione e se la foto è fatta bene quindi ha una messa a fuoco una texture un set adeguato ci permette poi ci incuriosisce e innesca tutta un'altra serie di sensi come la 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 praticamente la la il gusto cioè ci spinge a voler andare a capire e a leggere come è fatta quella determinata ricetta quindi insieme al food marketing e quindi è nata un'altra diciamo un'altra branca che si chiama food photography importantissima dove si studia in maniera accurata su come scattare le foto al food molte foto che vengono fatte a molti prodotti diciamo non sono poi effettivamente quelli che escono dalla cucina quindi sempre diciamo la pasta magari non è proprio cotta a puntino quando la si fotografa per diciamo postare una ricetta però effettivamente poi chiaramente dalla foto si deve poi avere la qualità cioè nel senso a puntare sulla qualità non è poi la foto è l'ingaggio ed innesco poi ci deve essere la sostanza anche nella realizzazione e nell'utilizzo degli ingredienti quello che dico poi è a parità di piattaforma tecnologica quindi di strumenti che si utilizzano a fare la differenza proprio è come viene presentato il prodotto e se alla foto diciamo del prodotto che si vuole commercializzare si unisce poi una ricetta o comunque si fa vedere un'applicazione di quel prodotto il bacino diciamo aumenta le persone coinvolte possono e sicuramente aumentano l'applicazione del prodotto fa la differenza sempre più concludo poi facendo diciamo unendo anche quello che è il mio il mio blog dove parlo di moda sempre più diciamo più forte il connubio tra moda e cucina moltissimi designer da quelli più famosi a quelli meno famosi sono affascinati dal cibo dal food e lo utilizzano come non solo come fonte di ispirazione come ha fatto Gattinoni nella scorsa edizione Ottoneverro di Alta Roma che ha allestito letteralmente imbandito del ristorante di Antonello Colonna all'Open Colonna uno spazio bellissimo non so se lo conoscete a Roma facendo sfilare le proprie creazioni ispirandosi a dei piatti realizzati dallo chef Colonna ma questo è diciamo la parte più di ispirazione molti invece designer utilizzano il food per trattare i propri cavi e questo spazio ne è stato la prova qualche settimana fa perché ha visto proprio diciamo esporre delle aziende apprezzesi che utilizzano gli scatti delle olive della produzione dell'olio quando si fa l'olio o del vino per lavare i propri ginze e quindi produrre diciamo presentare un prodotto nuovo quindi oltre al fatto che poi la cucina e la moda partono da un processo creativo molto simile nella scelta degli ingredienti il food nella scelta dei tessuti la moda e poi il processo creativo è sempre lo stesso l'ispirazione il saper mettere insieme gli ingredienti combinati in un modo ben preciso e non a casaccio insomma quindi ci sono molti punti di contatto tra moda e cucina sia da un punto di vista creativo che poi da un punto di vista di utilizzo delle risorse che stiano questo è il mio contributo sono molto felice spero che insomma appreziate anche voi sicuramente grazie Marco tra l'altro c'è una parola bellissima abbiamo fatto un seminario col Polo e oltre alla food photography usce un altro termine la food porn che in realtà la food porn sarebbe l'estremizzare la fotografia sul prodotto quindi sul food per poterla renderla veramente accattivante tanto da far venire la polina in bocca quindi questa è una sorta di stilizzazione che però questo nome fa in ciclo perché insomma coglie beh è un hashtag molto utilizzato fino a qualche tempo fa era molto ne strabusavano adesso un po' meno avevo utilizzato un po' meno si anche io ci si gioca un po' ecco è importante chi ha ascoltato già sa l'hashtag cioè questa parola così strana in realtà beccare degli hashtag buoni permette appunto di far vedere banalmente anche l'orario di pubblicazione al di là della 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 foto che poi diciamo ci sono dei canoni oggettivi da seguire poi chiaramente come tutte le cose è soggettiva no? una foto può essere più o meno bella tecnicamente è fatta bene però poi ti può piacere ti può emozionare o non ti può emozionare l'orario di pubblicazione ho imparato anche questo l'orario di pubblicazione delle foto di un post sui social network è fondamentale il giorno il giorno la domenica hanno determinata ora bisogna pubblicare non bisogna pubblicare durante la settimana ora di pranzo dipende da cosa pubblichi se pubblichi food allora è un grande riscontro se pubblichi qualcosa di moda non gliene prega nessuno insomma dipende se noi pubblichiamo un bel piatto di pasta asciutta alle 11 e mezza mezzo giorno è chiaro penso che venga più interessato che magari un ma ad esempio una cosa su cui si scrive tante volte le aziende dicono ma come faccio a capire quando pubblicare non esistono degli orari esistono degli orari per determinati settori e o barra prodotti però oggi gli strumenti già permettono di capire perché innanzitutto ci permettono di sperimentare online quindi inserire dei post e poi sono le statistiche una cosa che molto spesso viene sottovalutata sono le analytics tecnicamente le statistiche cioè capire le statistiche significa capire come gli utenti ci percepiscono tramite le statistiche capiamo su un post a una certa ora quante visualizzazioni o quanto tasso di interazione con gli utenti è generato se lo stesso post in un'altra ora numero di interazioni che è generato questo ci permette piano piano non è una cosa che si fa in un giorno non ci vorranno settimane qualche volta anche mesi ma ci permette di costruire quel famoso piano editoriale cioè quella famosa strategia di pubblicazione perché ci rendiamo conto che è meglio pubblicare questo forse ci si arrivava puramente al meglio però nella sua semplicità è meglio pubblicare il food intorno alle ore poco prima del pranzo o della cena e la fashion casomai dopo perché probabilmente avranno riscontrato un'attenzione completamente diversa sono piccole cose se pubblichi a mezzanotte capirei non ti guarda nessuno se non come ci sono uno di noi che scrive i post a mezzanotte ma non perché io scrivo a mezzanotte come ci sono ad esempio però ad esempio scrivere un post pochi sanno che quasi tutti i social network permettono poi di programmarne la pubblicazione quindi Marco lo scrive a mezzanotte e poi casomai lo programmerà per la pubblicazione alle 8 del giorno successivo insomma quello che voglio dire e che abbiamo in qualche maniera voluto condividere è che oggi ci sono tanti strumenti online possono dare un grande importante valore aggiunto per le aziende però bisogna saperli utilizzare in maniera un pochino più non dico corretta ma per ottimizzare e massimizzarne il risultato perché poi un post su Facebook lo sappiamo fare tutti tecnicamente non ci vuole tanto però capire come scrivere quanto scrivere quanti caratteri come fare la foto quante foto come dare il taglio della foto a che ora pubblicarlo in che giorno cominciano ad essere già una serie di variabili di un sistema per cui un pochino di attenzione nel voler andare in qualche maniera a capire come vogliamo costruire appunto la nostra comunicazione e basi l'arte comunque è sempre meglio poco ma buono che tanto ma inutile per esempio una cosa bellissima questa lo dico però non tanto per le aziende ma per noi persone evitate di pubblicare le citazioni di famosi poeti io tante volte vedo amici che pubblicano quantità industriali di citazioni di poeti psicologi filosofi Albert Einstein Armstrong ecco quello è il tipico scherzando quello è il tipico il tipico post che non genera alcun valore aggiunto e che in realtà va solo a intasare le nostre lo fanno anche le aziende purtroppo la verità lo fanno anche le aziende quindi capire un pochino bene quelli che sono gli strumenti vi dico l'ultima e poi mi avvio alla conclusione è anche la copertina quando noi utilizziamo la copertina della nostra pagina aziendale bensì la copertina anche del nostro profilo personale è importante un'immagine di copertina bella non voglio dire che ci sono dei grafici che lo fanno può avere dei costi ma ci sono e quindi abbiamo studiato tanti software gratuiti strumenti online che vi permettono in pochi secondi e anche agli aziende in pochi secondi di costruire copertine quindi l'immagine in alto di facebook così come twitter molto bella a costi veramente zero e casomai impegnando pochissimi minuti neanche un'ora della propria giornata una volta sola si fa quindi anche qui strumenti online ce ne sono veramente tanti c'è l'imbarazzo della scelta questo vuole essere un manuale operativo diamo una strategia consigliamo alcune soluzioni diamo i link per poterle implementare lo strone è abbiamo detto prima strapparlo nel senso positivo del termine cercare di utilizzarlo e quindi speriamo che possa diventare veramente uno strumento affiancato e che possa dare un valore aggiunto alle aziende dell'agroalimentare ovviamente tutto quello che abbiamo detto in questo caso avrà tutta una definizione su quello che è l'agroalimentare io altro non dico vi ringrazio grazie è l'agroalimentare e vi invito ovviamente a prendere una copia del libro e sotto tra qualche minuto sarà pronto a un cooking show fatto dai nostri food blogger io neanche ci provo io mi sono fermato alla colpettare di quanto avevo visto faccio il gazzone faccio il gazzone ah e ovviamente la ricetta che sarà fatta è citata e presa dal libro di Giorgia semplicemente buono che potete anche trovarlo sotto in consultazione grazie a tutti e buonasera